Innanzitutto per aiutare me stessa, nel senso che comunque sono libri che nascono da un'esperienza personale, quindi quando tu puoi condividere esperienza personale con gli altri, sicuramente rivedi anche tanto del tuo passato e del tuo presente, ma questi libri mi danno la possibilità di girare tanto, di incontrare tante persone, quindi è molto bello perché ti rendi conto che c'è una nuova ondata di consapevolezza. Siamo tutti figli della cultura della carne, ma poi si prendono dei percorsi diversi, si vive benissimo senza carne, anzi si vive anche meglio, quindi informarsi e pensare con la propria testa. Un saluto ai trevigliesi che oggi mi hanno accolto molto calorosamente e sono molto contenta, grazie.